Il primo gol è stato suo in questo mondiale La mette invece sul secondo palo La palla è dentro James Rodriguez E' dentro il 10 E' dentro il 10 2 a 0 Sono i due che hanno fatto più assist per la Colombia Capocano nero del mondiale Rivediamo qui Armero lo mette sul secondo palo Poggia E' ancora James Rodriguez Ancora il 10 Ancora quello che potrebbe diventare il crack di questo mondiale Per il suo quinto Si è in marcatura Godin Poi si gira per guardare il pallone Perde la marcatura Lui si stacca all'indietro Per andare a colpire questa palla di interno piede destro Ma che palla che ha messo Quadrato là ragazzi Che palla Quadrato Che è diventato l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina Ma che acquisto Ma che acquisto